Siamo qui insieme al sindaco di Carini, Giovie Monteleone. Sindaco, noi siamo venuti oggi qui per parlare della piccola Nazareth. Puoi spiegare le motivazioni che hanno portato all'emanazione dell'ordinanza di demolizione sette anni fa? Sì, l'ordinanza così come si fa per tutti gli altri casi di abusivismo e dirizio è stata manata proprio per questo motivo, perché gli uffici, l'ufficio di abusivismo a seguito sopra l'uomo dei vigili urbani che hanno constatato degli abusi ha emanato l'ordinanza di demolizione. Poi un altro accertamento, se negli anni si è, i vigili urbani hanno notato che sono stati fatti dei prefabbricati in legno attorno, per circa altri 300 o metà dati, pare che sia questo, non sono essenzialmente i volumi, perché sono altri, e sono prefabbricati che comunque devono avere la concessione edilizia che non hanno avuto. Quindi anche questi sono altri abusi che sono stati fatti, e per questi sono stati fatti appunto di accettamenti e anche altra propria disegno. Questa demanata è stata acquisita adesso al pacemano comunale perché c'è un iter burocratico che dopo scadenze varie bisogna fare degli atti successivi, il motivo per cui non è stata fatta la demolizione è appunto perché ancora c'è un contenzioso giudiziario che deve essere definito. E comunque è bene che si sappia, lo dico per un'istalla intellettuale, che c'è già un protocollo con la procura che abbiamo gestitulato, il matto nel 2015, quando allora mi sembrava, la priorità della demolizione viene fatta nella zona costiera, nelle zone a rischio geologico, poi eco-mostri e poi altro. Siccome sono tanti e abbiamo pochi uffici, poche persone d'ufficio, anche pochi mezzi e pochi denari, a poco a poco iniziamo da dove si ritiene che sia più opportuno sia per l'ambiente sia per il bilancio. È il 25 ottobre del 2016 quando il comune di Carini emetteva l'ordinanza di demolizione di una chiesa abusiva chiamata la piccola Nazareth, condotta da un ex don sconsacrato e la chiesa non è mai stata consacrata. Costruita in un terreno verde agricolo, situato a Santa Nicola, acquistato dallo stesso Minutella nell'anno 2010, la prima ordinanza di demolizione arriva nel 2016, la seconda nel 2017. Minutella fa il ricorso al tar e la sentenza del 2018 dà la stessa risposta del ricorso del 2017. In quel posto non poteva essere costruito un edificio, né tantomeno adibito al luogo di culto. Per questo motivo va demolito. Nonostante non ha più il ruolo di sacerdote, indossa l'abito talare, battezzando bambini, sposando persone, addirittura, sembra uno scherzo ma non lo è, consacra suore. Durante le nostre indagini abbiamo letto che il giornale, la testata giornalistica, pubblicava che in quella comunità abusiva di questo don sconsacrato, vietava i genitori di vedere i propri figli che erano lì per diventare suore, addirittura appellandoli con il nomignolo indemoniata, battene Satana. Allora i fedeli chiedono all'arcivescovo quanto fosse vera questa chiesa e che ruolo avesse questo don ex sconsacrato lì in quella chiesa abusiva di Carini. Ecco le parole dell'arcivescovo Michele Pennisi. La chiesa di Monreale, datato il 17 settembre 2015 con numero di protocollo 357-15, dove scriveva, come pastore di questa chiesa che è in Monreale, sono stato sollecitato da molti fedeli a offrire una dichiarazione ufficiale in merito ai fatti pretesi soprannaturali che si sarebbero verificati presso il cosiddetto centro Piccola Nazareth, situato nel comune di Carini. Tali fatti sono stati messi in atto da donna Alessandro Minutella, presbitero della diocesi di Palermo, il quale afferma di essere messaggero autentico della Madonna, degli Angeli e dei Santi. Visto che questi eventi vengono ampiamente diffusi sui social network, occasionando turbamento di molte coscienze e realtà ecclesiali, intesa con l'arcivescovo di Palermo, che è il vescovo proprio del sacerdote di cui trattasi, sentiti i miei diretti collaboratori e disponendo di sufficienti e precise informazioni, avendo presente anche il documento della Congregazione della Fede, norme per procedere e per discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni del 25 febbraio 1978, dichiaro quanto segue che le attività religiose compiute da donna Alessandro Minutella sono illecite in quanto non era stato debitamente autorizzato a celebrare sacre funzioni presso il cosiddetto centro piccola Nazareth, che la diffusione delle sue dichiarazioni di essere un profeta di messaggi soprannaturali mette seriamente a rischio la genuina devozione popolare verso la Madonna, gli angeli e i santi, che illegittima la costruzione della cappella sul terreno di proprietà privata, perché priva della necessaria licenza ecclesiastica. Sento perciò, in coscienza d'obbligo, di avvertire tutti i fedeli della mia amata chiesa di Monreale, che tali pratiche, oltre a essere contrarie al volere della chiesa, sono fortemente sospette di manipolare le coscienze. Per tale motivo ho revocato al suddetto presbitero ogni facoltà per confessare e predicare in questa diocesi, diffidandolo altresì di realizzare in essa qualunque altra celebrazione liturgica. Di conseguenza, chi eventualmente prendesse parte in illecite funzioni tenute da Don Minutella e più ancora, chi sostenesse le sue attività o collaborasse con lui, recherebbe grave pericolo alla sua anima, a firma dell'arcivescovo Michele Pennisi. Sempre durante le nostre indagini leggiamo che nella testata giornalistica Il Giornale un papà racconta che ha dovuto pagare per portare via le figlie da lì. Si è fatto prestare dei soldi. Gli enti competenti stanno indagando su questa situazione, ma è possibile mai che un parroco, un ex parroco, che non ha più il ruolo di sacerdote, continui ad indossare l'abito talare, ma si può delinquere e rimanere impuniti? Chiediamo agli enti competenti di indagare sulla situazione piccola Nazareth e di capire se le suore e i sacri che sono stati consacrati da questo parroco abbiano consapevolezza che il parroco sia stato sconsacrato e se di salute stanno bene, visto appunto come diceva l'arcivescovo che purtroppo sembra che lui durante queste sue funzioni manipola le coscienze e gli animi buoni dei fedeli.